Non risponderò per toni alle bassezze alle quali siamo stati attaccati, perché la nostra diversità si dimostra nei fatti, nei fatti siamo una forza propositiva, anche nella stessa mozione oggi chiediamo che evidentemente non si faccia, non si percorre una strada ma per percorrene un'altra, non è uno strumentale, ma anzi si chiede un'urgente inversione di rotta delle politiche anche sulle infrastrutture della regione toscana, secondo noi le priorità sono altre, abbiamo strade franate dove i cittadini non possono raggiungere le zone montane periferiche da anni, perché non ci sono le risorse, mi viene in mente la spolverina per raggiungere Gassano in Unigiana, ma ne potrei fare un elenco, qua si sta chiedendo semplicemente un'inversione di rotta, basta con le grandi opere dove troviamo anche grandi scandali di corruzione, basta con la cementificazione selvaggia, sto dicendo tutti no evidentemente, ma no anche agli inceneritori, però a ogni no c'è una proposta alternativa, c'è una proposta concreta, Friburgo, Friburgo è una città modello di mobilità sostenibile dove le persone si muovono anche in macchina ma hanno investito su infrastrutture della mobilità leggera, intelligente, smart, cosa che evidentemente questo smart non è molto diffuso in questa stanza, come dire, è una presa di coscienza, il mondo sta andando in un'altra direzione e noi stiamo a guardare, stiamo a guardare e oggi siamo qua in Toscana, che era all'avanguardia per certi versi, per alcuni temi, siamo qua a proporre vecchie ricette ottocentesche, la grande centrale ad alta velocità. Noi siamo molto preoccupati per questa visione perché crea danni non solo economici grandi, il treno ad alta velocità, il progetto della Tava Firenze dovrebbe insegnarci, dovremmo imparare dagli errori, invece siamo qua a perseverare, un atteggiamento diabolico, sicuramente non razionale, quindi il nostro era chiaramente una contrarietà argomentata su una grande opera, proponendo di intervenire su tante piccole opere infrastrutturali diffuse per il territorio toscano.